Ciao Marika, Marika Canale, è un piacere fare la tua conoscenza e devo ammettere che i tuoi video, la tua voce e la tua immaginazione sono a dir poco strepitose. Davvero hai un'immaginazione fantastica, hai creato su Youtube, hai pubblicato anche delle storie davvero stupende, soprattutto quella di John e del suo amore. Hai un'immaginazione davvero meravigliosa. Ecco, come puoi vedere, volevo mostrarti i miei My Little Pony. Ecco, anch'io ho Twilight con le ali e con il suo elemento. Gli ho fatto indossare un vestito che rappresentasse un po' quello che le ha disegnato Raridi per il grangala galoppante. Ecco, come puoi vedere ho Spike, mi auguro un giorno che tu possa comprarlo. E poi possiedo anch'io i cuccioli cercamici e ho trovato questo piccolo gufo che rappresentasse un po' gufo lisio. Poi ecco qui ho Fluttershy, come vedi, la dolce piccola Fluttershy, molto carina e gentile. E ecco questo è Angel, è uno dei cuccioli cercamici più rovinati che ho, però era l'unico coniglietto bianco che avevo e che rappresentava Angel. E poi ho Raridi, appunto, sempre molto elegante e molto generosa. E questo è uno dei cuccioli cercamici gatto, ne ho molti dei gatti e volevo fare in modo che rappresentasse Opal. E poi qui c'è Rainbow Dash, ovviamente con Tank, la sua tartaruga, molto tenace. E questo è Applejack con Winona, la sua cagnolina da fattoria. E questo è Gummi, il coccodrillo senza denti di Pinkie Pie, sempre molto allegra. E questa invece è Sunset Shimmer. Hai visto, no? Immagino Equestria Girls, le ragazze di Equestria, in cui Sunset Shimmer appunto è l'antagonista, perché vuole la corona di Twilight e vuole diventare la principessa del ballo, come faceva sempre. E dato che ancora non è che si era fatta a molti amici, ho deciso di associarle Bella. È la cagnolina dei cuccioli cercamici, non so se ti è capitato di vedere quell'episodio, in cui trasforma gli animali, i cuccioli maleducati, in gentil cuccioli. E quindi spero possa insegnare un po' di buone maniere a Sunset Shimmer. E queste sono le Cutie Mark Crusaders, e purtroppo ho solo Sweetie Belle e Apple Bloom, e Scudaloo ancora non ce l'ho, però ho deciso di associarle questo cucciolo dei magici. E spero che possa servirle per ottenere il loro simbolo di bellezza, ovvero il loro Cutie Mark. Questi sono creati in session in armor, e il loro animaletto perfetto sarebbe appunto questa farfalla che ho trovato nel castello di Canterlot. E ecco, come puoi vedere, questo video non è, vabbè, si è dedicato a te, ma anche a tutte le fan dei My Little Pony. E spero, continua a fare le tue storie, devo ammettere sono davvero fantastiche, continua a fare le tue storie, e continua così. Ciao!